su ciao a tutti ragazzi su cabal nelle ultime ore si è inserita anche la juventus sarà un'azione di disturbo chi lo sa comunque a me il ragazzo piace io lo dicevo da da quando c'era il zang manca un progetto che stiamo sui giovani è un mix perfetto perché l'intera giocatori esperti giovani eh sembra si sia inserita la juve io questo ragazzo soprattutto per le condizioni che ci offre il verona prestito diritto prestito con obbligo lo prenderei puoi mettere dentro qualcuno il verona tanto sta vendendo anche i palloni potrebbe essere un buon affare eh sull'intervista in zaghi sulla conferenza stampa di zaghi se siete stati attenti ad una domanda ad una precisa domanda eh Bastoni può fare centrale in zaghi dice no no lì siamo coperti lo vedo come braccetto dove ha offerto sempre delle grandi prestazioni quindi caro Luciano eh mi sa che te l'ha tirata i zaghi no no Bastoni fa fa il braccetto sta bene lì centrali siamo a posto anche se siamo a posto serviva un centrale come buongiorno che è andato al Napoli addirittura da quello che scrive Repubblica ehm buongiorno buongiorno c'è un retroscena che ha del clamoroso perché ha rifiutato la Juventus ehm per andare proprio al al Napoli perché dice la Repubblica per la trattativa Alessandro buongiorno Napoli è stato decisivo Antonio Conte che eh da cui il giocatore va molto volentieri eh il quotidiano racconta oggi in Ediola che il suo procuratore Beppe Riso aveva esplorato anche altre possibili mete tra cui la Juventus eh l'Inter lo aveva valutato solo ed esclusivamente come alternativa a De Vrij lo scrive la Repubblica non lo dico io Tiago Motta Tecchio dei Bianconeri si è spinto in prima persona per per provare a convincere il giocatore che ha però optato per la soluzione partenopea quindi il ragazzo ha scelto tra Juve e Napoli ha scelto di andare a Napoli a Napoli laddove Conte ha già incominciato con i soliti discorsi gap 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 eh poi dopo magari perde la prima partita e dice ma cosa volete da me? Buongiorno giocava nel Torino anche se l'hanno pagato quaranta milioni è lo stesso parrucca lo stesso allenatore sta facendo schiantare tutti i giocatori lo stesso allenatore che rischia un ammutinamento perché spesso gli è capitato di subire degli ammutinamenti da parte dei calciatori quindi Napoli è una squadra in costruzione tutta da rifare con un personaggio come Conte molto molto particolare tornando alla conferenza stampa di Zaghi mi è piaciuto tantissimo il discorso che ha fatto su Carboni chi segue questo canale da due anni e che è due anni che è aperto sa benissimo che io un anno e mezzo fa esce un video sui fratelli Carboni e parlai benissimo di Valentin era ancora in primavera eh io faccio un video su Carboni mentre è ancora in primavera un anno e mezzo fa attenzione ma perché su Inter Channel l'avevo visto giocare diverse volte non l'ho mai visto dal vivo Carboni è un giocatore su cui l'Inter chiede tanto ed è un giocatore di cui l'Inter non si libererà facilmente in Zaghi dice posso cambiare anche modulo attenzione allora lì essendo onesti intellettualmente ti viene anche un'idea ma sta blefando perché magari l'Inter lo vende perché se Zaghi dice no non rientra nel mio schema è normale ti chiamano oh l'allenatore tanto ha detto non rientra nei suoi schemi dai non chiediamo troppo per questo ragazzo potrebbe essere capito ehm una strategia comunicativa ma secondo me Zaghi ci crede in Carboni Carboni eh 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 è un futuro top player come l'ho detto Palovic per quello ragazzi a me a me questa politica dei giovani abbinata ai giocatori esperti mi piace poi ragazzi a chi rompe i coglioni io vi ridarei il cinese a chi rompe i coglioni vi devo dire questo rinnovato rinnovato Lautaro a nove milioni netti più bonus rinnovato il vice capitano che Barella a sei milioni e mezzo l'innovato l'allenatore a sei milioni e mezzo più due di bonus non è stato venduto perché un'offertina dal Bayern è arrivata e come lo hanno detto tutti nel frattempo bisogna leggere che ottri sono dei pezzenti che non spendono destra e sinistra ma anche no li hanno tenuto tutti quelli più forti stanno facendo un mix perfetto di giocatori esperti da Remy che sapete a me non mi fa impazzire da Remy Zierischi e Perez Topalovic Carboni e e se arriva anche i caballi cioè secondo me va bene o sì ragazzi sappiamo tutti e siamo in una fase transitoria comunque ehm in Zaghi e Bellocario anche lui eh gli hanno rinnovato quindi cioè alla fine della fiera mh in Milan a quanto pare quella bomba su yogurt lì bisognerebbe approfondirla un attimino perché si è scritto al campionato in maniera un po' diciamo strana e tra l'altro io volevo ricordare che eh il centrale il centrale eh che sta cercando l'Inter ragazzi centrale un centrale buono lo paghi come buongiorno 30 35 40 milioni non è facile l'Inter io te lo sto dicendo da inizio da prima incomincio il mercato te lo dico senza avere fonte perché si va per logica in questo canale non si non si fanno voli pindarici non gli spende l'Inter e 35 40 milioni per un centrale quindi se quest'anno la politica lei affiancare ragazzi giovani come può essere cabal eh a giocatori esperti come a Cerbi lo stesso Devrai e Devrai ragazzi abbiamo visto eh te lo ripeto Devrai eh dal liceo Lassio a noi serve un centrale forte sull'uomo fatto degli errori importanti anche negli europei cioè di tanto si perde dall'uomo fa girare l'attaccante troppo facilmente noi siamo un centrale difensivo a Cerbi a trentasett'anni però eh bisogna avere un po' di fiducia secondo noi bisogna avere un po' di fiducia abbiamo capito avete sentito Marotta che dice sarà un mercato di sostenibilità anche se Marotta a volte dice a e fa b ma non sembra sia un mercato da colpi da trenta o quaranta anche perché i giocatori eh che erano stati avvicinati all'Inter zigzeh Gudmundson Guirassi buongiorno eh chi era per l'altro non non è arrivato nemmeno uno perché sono tutti colpi da trenta trentacinque quaranta milioni quindi eh almeno di una plusvalenza clamorosa come poteva essere io non vedo colpi da quaranta milioni ma ricordiamoci sempre che come dice Farrucca a Napoli il gap il gap perché lui dice gap e gap lo dice tutte e due per non sbagliare lo devono accorciare gli altri sono gli altri si devono avvicinare a noi non siamo noi bisogna avvicinarci a quegli altri ciao Inter grazie a tutti